ore nove prima pista pipì permesso Alice davanti la neve è perfetta siamo i primi a passare abbiamo fatto colazione non vi dico cosa ho mangiato bacon uova dolce omelette con la nutella frutti di bosco due cappuccini poi e adesso eccoci l'istra lì c'è vai vai è lì il nostro albergo